Ciao a tutti, anche stasera un piccolo pensiero, stasera veramente piccolo dai, che nasce dall'incontro con una poesia che forse molti di voi conoscono. È la poesia di un famoso poeta dialettale romano o romanesco, il famoso Trilussa, Carlo Alberto Salustri si chiamava, veramente. È vissuto tra alla fine del 1800 ed è morto nel 1950, quindi vicino a noi. Fu un giornalista, uno scrittore, soprattutto fu questo grande poeta dialettale un po' sulle orme di Gioacchino Belli, con quel romanesco che è simpaticissimo, è bellissimo il romanesco, almeno a me piace molto. Trilussa era sostanzialmente un mangia preti agnostico che insomma anche alla chiesa, poi a Roma, che voi capite, gli dava giù con la sua satira, con le sue poesie molto feroci a volte, molto satiriche appunto. Però c'è un gioiello in mezzo a queste raccolte di poesie belle e anche anticlericali. C'è una poesia piccola che si chiama La Guida e il titolo dice molto. La Guida. E io adesso col mio pessimo romanesco la vorrei rileggere, chiedendo perdona a Trilussa per la mia pronuncia, non so il romanesco, non lo so parlare anche se mi piace, e leggerla insieme con voi, perché proprio in questa domenica in cui si è parlato di ciechi ci sta veramente bene e perché dice molto. Adesso la porto, se ce la faccio, porto il telefonino, giro questo, eccola qua. La Guida. Quella vecchietta cieca che incontrai la notte che mi è spersi in mezzo al bosco, mi disse se la strada nulla sai, te ci accompagno io, che la conosco. Se c'hai la forza di venimmi appresso, di tanto in tanto te darò una voce, fino a là in fondo, dove c'è un cipresso, fino a là in cima, dove c'è la croce. Io risposi, sarà, ma trovo strano che me possa guidà chi non ce vede. La cieca allora mi pigliò la mano e sospirò, cammina, era la fede. Ecco, secondo me l'ultimo verso è fantastico. La cieca sospirò e mi pigliò la mano e mi disse cammina, era la fede. Ecco, in realtà questa immagine della fede come qualcuno cieco non è che mi piace molto, però in questo caso invece sì, perché ti fa capire che c'è qualcuno che ha un altro tipo di vista. La fede è un altro tipo di vista e la fede è una guida, è una guida in un mondo invisibile, in un mondo che non vedi con gli occhi, con gli occhi del corpo, ma che vedi e puoi vedere con gli occhi del cuore, come vedeva la strada lei. E poi è bella l'immagine del cammino, mi pigliò la mano e mi disse cammina, la fede è un cammino, è un cammino anche difficile, è un cammino anche dentro valli oscure, come dice il Salmo 23, è il signore mio pastore, ma anche dentro la valle oscura io so che tu sei con me. C'è un capitello in terra santa a Cafarnao dove si vede una donna bella che prende un apostolo per la mano e lo guida, lì è la chiesa, ma potrebbe essere anche la fede. Speriamo che la fede ci guidi in questi giorni, lasciamoci guidare da questa vecchietta cieca che però ci vede meglio di noi. Ciao a tutti!